buongiorno a tutti benvenuti sul mio nuovo canale in questo video vedremo alcuni percorsi alcuni sentieri tracciati in mountain bike ci troviamo nel comune di rive d'arcano e adesso brevemente andremo a elencare quelli che sono i vari segmenti primo segmento con le fratta quindi collina e un primo pezzo nel bosco secondo segmento attraverseremo il torrente patoc terzo segmento ci troviamo invece in prossimità del forte con roncon e saremo sempre all'interno del bosco quarto segmento conosciuto come drittone del forte con roncon e quindi staremo poi a vedere quinto e ultimo segmento ci sarà sempre un'altra discesa dal forte con roncon con salto finale so Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.